ciao sono manuela l'esperta in comunicazione di master studio labs ci siamo appena lasciati alle spalle un anno praticamente nefasto segnato da una parola pandemia questa pandemia che si è riflessa sotto tantissimi aspetti della nostra quotidianità e che riprende forse quella che è la parola che riguarda la nostra rubrica mensile chiaccio infatti è come se i nostri rapporti interpersonali si fossero congelati pensiamo ai mesi del primo lockdown quelli della scorsa primavera dove praticamente abbiamo dovuto rinunciare a anche degli aspetti molto importanti di quella che è la comunicazione non verbale pensiamo a quanti abbracci non ci siamo potuti dare e che tuttora stentiamo a mettere in atto a discapito di questo però possiamo dire che la comunicazione in qualche modo ha avuto una sua rinascita pensiamo infatti a tutti coloro che durante questi mesi in qualche modo si sono reinventati pensiamo a coloro che tengono normalmente dei corsi in palestra e che invece durante questi mesi hanno come dire messo in gioco alcune caratteristiche che forse nemmeno pensavano di avere pensiamo a tutti i corsi online che si sono potuti sviluppare calmari è uno di questo a otto per parlare di quelli che sono diciamo gli elementi di master studio labs ecco diciamo che per alcuni forse questo gelo è stato un po come un congelamento che fosse che forse è stato anche in grado di poter fare nascere qualcosa di positivo qualcosa che è nato che poteva sembrare anche dal nulla in realtà è andato a sbocciare proprio dal ghiaccio nonostante la fisicità nei scorsi mesi sia stata in qualche modo congelata siamo stati capaci comunque di tirare fuori altri potenziali ecco facciamo leva proprio su questi facciamo in modo che da questo ghiaccio possano nascere nuove opportunità a